Avevi tutto, Robin. Eri una stella a 24 anni. Hai sbattuto tutte le porte dietro di te e hai infranto tutti i nostri sogni. Eron ha bisogno di me a casa. Ma Eron era solo una scusa. Svegliati, Robin! Qui è in gioco la tua libertà! Scansionarti totalmente. Il tuo corpo, il tuo volto, le tue emozioni. Quegli ocenni di Forrest Gump. Vogliamo avere un tuo campione completo per conservarti, per far nostra questa Robin Wright. Qual è la differenza? Una fottuta scelta? Certo, una fottuta scelta, Al. Una volta nel computer non puoi più trattare. Il personaggio diventa degli studios. Ora sorridi. Wow, sei stupenda! Come cartovola, voglio dire. Abraham Assythi è un'area animata riservata. Potrei tornare da dove sono venuta. Vedi, non esiste il posto da dove sei venuta, Robin. D'oreto, sono le tue, il nostro osse. Vedi, non è il posto da dove sei venuta. Vedi, non è tutto, abonà. Vedi, non è tutto. Grazie a tutti.